Professor Mannino, le volevamo chiedere chi è stato Mario Talamanca e che importanza ha avuto nel panorama giuridico internazionale? In poche battute è difficile dare una spiegazione esauriente della personalità umana e scientifica di Mario Talamanca. Però una cosa si può dire è che è stato sicuramente uno dei giuristi che ha segnato la vita accademica nel secolo passato sia dal punto di vista scientifico sia anche dal punto di vista didattico. Quello che si può dire in poche battute è che sia amici ed avversari hanno sempre riconosciuto in Mario Talamanca un vigore morale e scientifico assolutamente incontrovertibile e che ha sempre insistito sulla esigenza di avere un dibattito intenso all'interno della materia che egli ha in maniera privilegiata coltivato, cioè il diritto romano. Quindi ha sempre insistito sull'esigenza di un dibattito intenso, anche a volte aspero, ritenendo, e io sono pienamente d'accordo su questo punto di vista, che la dialettica intensa sia il sale alla base dell'esistenza e dello sviluppo di una qualsiasi disciplina scientifica. Quindi oggi sono particolarmente contento del fatto che si sia potuto organizzare nell'ambito degli incontri dedicati ai grandi maestri del Novecento un incontro per ricordare una parte dell'insegnamento di Mario Talamanca e voglio ringraziare nello stesso momento il professor Finazzi che è l'ultimo allievo di Mario Talamanca di aver accettato di animare questo incontro e di dare un'immagine di uno studioso estremamente importante agli studenti perché come sapete questi incontri sono aperti agli studenti. Grazie. Grazie a lei. Professor Finazzi invece ci potrebbe spiegare in breve su che cosa verterà la sua lezione? Sì, la lezione sarà tendenzialmente divisa in due parti, una più breve in cui delineerò le caratteristiche principali che denotano la figura di Mario Talamanca e quindi il rigore metodologico, il rigore nell'approccio scientifico soprattutto. Poi una seconda parte in cui entrerò nell'ambito della discussione un po' più tecnica sulla tematica affrontata dal maestro nella voce obbligazioni pubblicata sull'Enciclopedia del Diritto. Una voce in cui si traccia un quadro complessivo delle obbligazioni praticamente dalle origini della città di Roma fino al periodo classico e con qualche notazione relativa al periodo post-classico e nella quale discussione io valorizzerò soprattutto la prima parte, quella del passaggio da una concezione arcaica del fenomeno obbligatorio a quella che è la concezione elaborata dai giuristi classici che prelude alla modernità.